Dopo una grande impresa, è bello tornare dove tutto è iniziato. Mi alleno sui campi in cui sono cresciuta. Mi guardo intorno e penso... Quanta strada abbiamo fatto insieme! Anche tu, grazie all'Istituto per il Credito Sportivo, puoi realizzare qualcosa di grande per il tuo circolo. Con la sola lettera di referenza della Federazione Italiana Tennis e Paddle, senza altre garanzie, puoi accedere al mutuo del Credito Sportivo. Finanziamenti fino a 120.000 euro per attrezzature e ristrutturazione, per i campi da gioco e per ogni altro spazio del tuo centro. Istituto per il Credito Sportivo Facciamo crescere i nostri circoli!